Si è spento dopo 5 giorni di coma l'operaio elettricista di 34 anni, vittima di un incidente sul lavoro in provincia di Chieti. Mattia Finocchio, questo il suo nome, era in condizioni gravissime ed è stato ricoverato all'ospedale di Pescara, dove aveva subito un delicato intervento chirurgico. Era stato quindi trasferito in rianimazione e oggi i medici hanno deciso di staccare le macchine. Il 34enne era rimasto gravemente ferito alla testa in un incidente venerdì scorso 25 agosto, mentre era al lavoro, in un'azienda di Mozzagrogna in provincia di Chieti. È stato trasportato inizialmente d'urgenza all'ospedale di Lanciano, poi alla neurochirurgia dell'ospedale di Pescara, dove è stato sottoposto un intervento chirurgico, ma le sue condizioni erano disperate fino alla sua morte celebrale. È stato aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali irresponsabilità penali. Mattia è stato particolarmente sfortunato, stava tornando a casa dopo aver completato il suo lavoro, ma era tornato nell'azienda per riprendere un attrezzo, quando è stato colpito alla testa da una barra di ferro in seguito allo scoppio di un tubo. Il suo paese torna a Reccio e sotto shock. Alcuni eventi erano già stati annullati. Siamo tutti affranti per questa tragedia, ha commentato il sindaco Nicola Iannone. L'intera comunità è stretta al profondo dolore della famiglia. Gli organi di Mattia sono stati donati.